Salve, cara famiglia della Chiesa, possa la pace del nostro Signor Gesù Cristo essere con ciascuno di voi. Prego che ovunque siate possiate godere della presenza dello Spirito Santo nel vostro cuore. Oggi siamo qui per continuare il seminario preparato dalla Conferenza Generale, Ritorno ai fondamenti, e il tema di oggi è separazione dal mondo. La Bibbia ci racconta una storia del tempo quando Gesù aveva più di 130 discepoli, e lui presentò un sermone, e quei discepoli non potevano comprendere il messaggio di Gesù. E' scritto in Giovanni 6, lì sta scritto che molti dei suoi discepoli da quel momento in poi non poterono più camminare con Gesù, e si abbandonarono Gesù. Come ho detto, egli aveva più di 130 discepoli, e soltanto 12 rimasero con lui. Quale fu la differenza tra i 12 discepoli che rimasero con Gesù e gli altri quasi 130 che lo abbandonarono. La differenza fu che quei 12 discepoli camminarono più vicino a Gesù, e sperimentarono Gesù, e sapevano chi era Gesù. A tale punto che in quel giorno quando Cristo entrò a Gerusalemme, essi citarono per lo Spirito santo, la profezia riguardo Gesù. Chi era Gesù per loro? Chi era Gesù per l'universo? La speranza dell'uomo, pagina 438. Adamo vi dirà che è la progenie della donna che schiaccerà il capo del servente. Abramo vi risponderà che è Melchisedec, re di Salem, re di pace. Giacobbe vi dirà che egli è colui che appartiene alla tribù di Giuda, e vi dirà il riposo. Isaia vi dirà che è l'Emanuele, consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Jeremia vi dirà che è il germoglio di Davide, l'eterno nostra giustizia. Daniele vi dirà che è Messia. Osea vi dirà che egli è l'iddio degli eserciti, il suo nome è l'Eterno. Giovanni Battista vi dirà che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'Eterno ha proclamato dal suo trono. Questo è il mio diletto figliolo. Noi, Suoi discepoli, dichiariamo che egli è Gesù, il Messia, il Principe della vita, il Redentore del mondo. E il Principe della potenza, delle tenebre, lo riconosce dicendo, io so chi tu sei, il Santo di Dio. I discepoli sapevano chi era Gesù. Essi conoscevano la testimonianza data dalla parola di Dio. Ecco perché quei dodici discepoli non abbandonarono Gesù. Rimasero con Gesù e Gesù guardando ai dodici li mise la prova, li testò, guardò loro e disse, volete andarvene anche voi? E Pietro diede a Gesù la risposta, che anche voi dovreste dare a Gesù ogni giorno, tutti i giorni della vostra vita. Pietro disse, Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Quei dodici discepoli sapevano che il mondo non poteva dar loro ciò che Gesù poteva dare. Essi sapevano che solo Gesù poteva dar loro la vita eterna e poteva portarli con sé in un mondo migliore di questo. Caro mio amico, ecco ciò che Dio vuole sapere. Egli vuole che noi lo conosciamo, che Lui è il principe della pace, è l'unico che può darci la felicità, la felicità che il mondo non può darci. Lui è il re dei re, il salvatore delle nostre anime. Egli è il padre che ci ama e ci porta nelle sue braccia di amore. Quando capiamo l'amore di Dio, niente in questo mondo può attrarci per separarci da Dio. Gesù aveva cura della sua chiesa mentre era in questo mondo. Egli aveva cura per i suoi discepoli e continuò ad aver cura della sua chiesa fino alla fine, fino al punto che Lui ha cura di te e di me. In Giovanni 17, una delle più belle preghiere che si trovano nella Bibbia, era il giorno quando Cristo pregò per la chiesa e quando dico che Lui pregava per la chiesa, ciò significa che Lui pregava anche per te e per me. Leggiamo insieme Giovanni 17, dal 15 al 17. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Caro amico, caro fratello, cara sorella, Gesù qui, quando innalzò questa preghiera al Padre, Egli aveva in mente te e me. Egli pregò al Padre, Padre, liberali dal male. Per loro non è ancora il tempo di lasciare questo mondo. Essi devono compiere qui una prova. Perciò io non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma ti chiedo di proteggerli, ti chiedo di preservarli dal maligno. Essi non sono del mondo. Capite cosa stava dicendo qui Gesù? Lui stava dicendo che tu e me non siamo di questo mondo. Noi siamo solo di passaggio. Ma un giorno, molto presto, Egli verrà per prenderci e per portarci con Lui per vivere nel paradiso. Giacomo 4,4 nella Bibbia dice, possiamo leggere insieme, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Questo forte per il Signore ci dice qui delle parole forti. Cosa significa questo? Dio vuole che noi capiamo una cosa. Quando ci avviciniamo al mondo diventiamo nemici di Dio. La Bibbia non ci dice qui, il Signore non ci dice qui, se vai col mondo io non voglio saperne più niente di te. Io divento il tuo nemico, non avrò più cura di te. Non è questo ciò che dice questo versetto. Comprendiamo cosa vuole dire qui il Signore. Coloro che diventano amici del mondo, essi diventano nemici di Dio. Siamo noi che diventiamo nemici di Dio. Non è Lui che diventa il nostro nemico. Noi diventiamo Suoi nemici quando ci avviciniamo al mondo. Ma il Signore vuole dire qui, più ci avviciniamo al mondo, meno abbiamo bisogno di questo Padre che ci ama. Più ci sviamo lontani da Lui, più il mondo, le cose di questo mondo, hanno questo potere di separarci da Dio. Dio, col Suo amore, la Sua grazia, la Sua misericordia, ci dice qui, non avvicinarti al mondo perché diventerai mio nemico. Tu diventerai il mio nemico, nonostante tutto l'amore che ho per te, nonostante tutto ciò che faccio per salvarti. Tu non sentirai il bisogno di essere salvato se ti avvicinerai al mondo, se diventerai amico del mondo. In 1 Giovanni 2,15 Dio ci parla di nuovo e ci implora dicendo, non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. A chi fa la volontà di Dio, rimane in eterno. Il Signore perciò nella sua misericordia ci dice questa parola, non amare il mondo, nelle cose che sono nel mondo, perché se ami queste cose, farai diminuire il tuo amore per me e alla fine non mi amierai più. Io ti amo così tanto che ho dato il mio unigenito figlio a morire per te sulla croce del Calvario. Io ho fatto e continuo a fare tutto ciò che posso per salvarti, perciò non amare il mondo, non sviarti, non abbandonarmi. Questa è l'implorazione di Dio per te e per me. E perché Lui ci sta implorando? Egli ci dice nel versetto che abbiamo letto che siccome tutte le cose di questo mondo passeranno, se tu scegli il mondo riceverai ciò che il mondo può darti. Cosa ti può dare il mondo? Il mondo ti può dare momenti di felicità, di apparente felicità. Il mondo ti può dare alcuni momenti di fama, alcuni anni di fama in questo mondo qui, ma alla fine della tua vita e della mia vita? Sapete, Dio dice, se scegli il mondo, questo è ciò che guadagnerai, ciò che il mondo può darti. Ma io ho qualcosa di molto migliore per te. Solo ricordati, dice Lui, la concupiscenza del mondo passa, l'amore per il mondo passa, tutto in questo mondo ha una fine, ma io ho una vita per te senza fine. Una vita che non può essere paragonata con niente in questo mondo, una felicità che niente in questo mondo può tenerla. Quando capisci l'amore di Dio per noi, noi comprendiamo le parole di Pietro. Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Pietro e quei dodici discepoli compresero qualcosa che quegli altri quasi 130 discepoli non poterono comprendere. Pietro e quegli altri undici discepoli capirono che era meglio essere schiavi o prigionieri in questo mondo con Gesù, che essere re in questo mondo senza Gesù Cristo. Quando ci ricordiamo dei prigionieri del tempo passato come Geremia, Giovanni Battista, essi erano in prigione, ma ora essi hanno la vita eterna nascosta con Cristo, che darà loro nel giorno della Ressurrezione. Vi ricordate di quei re che erano in quei giorni come Erode? Dove è Erode oggi? Meglio essere prigioniere come Giovanni Battista che essere un re come Erode e i discepoli lo capirono. Ecco perché dissero, noi non vogliamo andare da nessuna parte. Noi rimaniamo con te, Signore, perché solo tu hai la vita eterna, solo tu hai la parola della vita eterna. L'ispirazione dice nel quinto volume delle testimonianze, pagina 602. C'è una linea distinta tratta da Dio stesso tra il mondo e la Chiesa, tra gli osservatori dei comandamenti e trasgressori dei comandamenti. Essi non si mescolano insieme. Sono così diversi come il mezzogiorno e la mezzanotte, diversi nei loro gusti, nei loro scopi, nei loro obiettivi, nei loro caratteri. Ecco cosa dice Dio qui a me e a voi. Noi siamo diversi dal mondo. Egli ha messo una separazione, una linea di separazione tra la Chiesa e il mondo. Egli ha separato i Suoi figli dai figli del mondo. Noi siamo diversi, amiamo cose diverse, abbiamo prospettive diverse, abbiamo obiettivi diversi nella nostra vita. E il nostro carattere è diverso perché la grazia di Gesù, il Suo amore, la Sua morta per noi sulla croce del Calvario, fa una differenza nella nostra vita, ha portato il cambiamento nella nostra vita. Il Suo amore, noi comprendiamo l'amore di Dio e quando comprendiamo l'amore di Dio niente in questo mondo può separarci da Lui. Neanche le tentazioni di questo mondo. Tutte le offerte di questo mondo non possono separarci da Dio quando comprendiamo quanto Egli ci ama, quanto ha cura di noi, quanto ha sofferto per noi sulla croce del Calvario. In secondo Corinti 6, 17 e 18, il Signore ci consiglia una volta di più e ci dice, uscite di me da l'ora e separatemi, dice il Signore, non toccate nulla di mondo, io vi accoglierò e sarò un padre per voi e voi sarete per me figli e figli, dice il Signore onnipotente. questa è la relazione che Dio vuole avere con voi e con me, una relazione tra padre e figlio, una relazione tra padre e figlia e Dio sta dicendo a te e a me, separati dal mondo, così potrai capire mio amore, separarti dai piaceri di questo mondo, dalla tendenza di questo mondo, così non ti svierai da me, perché io ti voglio vicino al mio cuore. L'invito di Dio è separati dal mondo. Nel quinto volume delle testimonianze, pagina 12, sta scritto, queste sono le condizioni alle quali noi possiamo essere riconosciuti come figli di Dio, separazione dal mondo e rinuncia quelle cose che deludono, affascinano e intrappolano, questo è ciò che il mondo vuole fare con noi, ciò che il mondo vuole fare con te e con me è deludere, affascinare e intrappolare, ma queste sono illusioni del mondo e Dio dice non essere ingannato dalle cose di questo mondo, e se ti possono dare solo una felicità momentanea, ma io ti posso dare la felicità senza fine. Il mondo ti può dare qualche momento di vita qui su questo pianeta, ma io ti posso dare la vita eterna nel mondo che è incomparabile, non può essere paragonabile con nessuna cosa di questo mondo. Non permettere che le cose di questo mondo ti intrappolino per deluderti, affascinarti, perché io ho qualcosa di molto più affascinante, qualcosa di molto migliore per te. Primo volume delle testimonianze, pagina 137. Dio avrà un popolo separato e distinto dal mondo. Non appena qualcuno ha un desiderio di imitare le mode del mondo e non lo sottomette subito, proprio così presto Dio cessa di riconoscerli come Suoi figli. Essi sono i figli del mondo e delle tenebre. La parola di Dio dice quindi chiaramente che Dio ha un popolo in questo mondo, un popolo separato, distinto, diverso, che il mondo guarda adesso e vede che è diverso. Continuando nella parola di Dio, ci viene detto qui che non appena scegliamo di imitare le mode di questo mondo, noi ci separiamo da Dio. Noi stessi ci separiamo da Dio ed Egli termina di riconoscerci come Suoi figli, perché non sentono il bisogno di questo Padre d'amore. Noi perdiamo questo collegamento con Lui quando imitiamo le mode di questo mondo. Nello stesso tempo la Bibbia e lo Spirito di profezia chiariscono il modo nel quale dovremmo vestirci. Dio non sta dicendo a te e a me che dovremmo vestirci in modo trascurato, in nessuna moda. No, Egli ci sta dicendo che noi dovremmo vestirci con buon gusto e l'ispirazione ci dice persino che se le mode di questo mondo non sono contrarie ai principi della parola di Dio, quello va bene e noi dovremmo vestirci in modo gradevole pulito. Il problema con le mode di questo mondo è il fatto che la maggior parte di esse sono contrarie ai principi della parola di Dio. Ma quando queste sono d'accordo con i principi della parola di Dio, dovremmo e potremmo vestirci in modo appropriato, così quando il mondo guarda il modo come ci vestiamo possa vedere che abbiamo un buon gusto e che in questa maniera stiamo servendo Dio e preparandoci per un mondo molto migliore di questo. Ci sono molte mode nel mondo. Il libro Fede fondamentale ci dice che tipo di moda del mondo è contraria alla volontà di Dio. Lì si parla ad esempio dei pantaloni corti per gli uomini o per le donne, cioè contrarie ai principi della parola di Dio. Indossare i pantaloni da parte delle nostre sorelle, noi già sappiamo che non è adatto e contrarie ai principi della parola di Dio. Vestiti trasparenti, troppo stretti, tutte queste cose sono comuni. Non voglio andare in tutti i dettagli del vestiario che ci separano da Dio, perché noi tutti sappiamo che la parola di Dio è piena di orientamenti. Noi abbiamo decisioni e soluzioni della conferenza generale che sono conosciute, che dovremmo ubbidire la voce di Dio. Ascoltate la voce di Dio e non siate attratti alle modi di questo mondo che sono contrarie ai principi della parola di Dio. Dio ci ha detto come vestirci in modo appropriato per mostrarci al mondo che noi siamo Suoi figli. Ma voglio dirvi una cosa. Noi pensiamo di osservare il sabato in tale maniera che il mondo possa capire che siamo diversi dal mondo? Noi dovremmo avere una buona dieta, mangiando diversamente dal mondo, che quando il mondo ci guarda vede che noi mangiamo per la gloria di Dio. Noi ci prendiamo buona cura dei nostri corpi e dovremmo vestirci nel modo come ci dice la parola di Dio. Ma tutte queste cose possono essere compiute solo attraverso la grazia di Gesù Cristo. Io non so quali sono le difficoltà che affrontate oggi per separarvi dal mondo. Può essere l'osservanza del sabato, può essere qualche difficoltà che avete nella vostra dieta, può essere qualche difficoltà che avete nel vostro vestiario, qualche difficoltà che avete con la decima, le offerte. Ma voglio dirvi qualcosa. Voi potete fare tutti gli sforzi, tutti gli sforzi umani possibili. Potete anche piangere nel vostro dolore perché sapete che state facendo qualcosa di sbagliato. Ma il segreto del successo non è nel vincere queste cose, ma il segreto è in Gesù Cristo. È nel camminare con Lui, parlare con Lui, leggere la Sua parola, pregarlo e guardare al Calvario affinché tu e io serviamo Dio nella maniera che Lui vuole che lo serviamo. Separarsi dal mondo in tale maniera che avremo quella comunione che ci porterà la vera felicità nella nostra vita. primo volume delle testimonianze, pagina 133. Gesù sta per venire. Troveregli un popolo conformato al mondo? Riconoscerà costoro come suo popolo che egli si è purificato per se stesso? O no! E qual è il popolo che egli riconoscerà come suo? Egli riconoscerà come suoi solo i puri e santi. Egli possederà come suoi coloro che sono stati purificati, imbiancati attraverso le sofferenze e si sono mantenuti separati, immacolati dal mondo. Egli vuole un popolo che abbia fatto un patto con Cristo tramite il sacrificio. Un popolo che tramite il sacrificio di Cristo ha accettato il vestito bianco che il Signore ci fornisce. Ecco perché cammineremo con Cristo nelle strade d'oro del nuovo mondo. Come ho detto, noi possiamo metterci tutti gli sforzi umani, ma senza Gesù noi siamo come i tralci di un albero tagliato che si seccano e muoiono. Abbiamo bisogno della grazia di Gesù e di comprendere l'amore di Dio e solamente comprendendo questo amore di Dio e contemplando Gesù sul Calvario ci può dare la forza di cui abbiamo bisogno per vincere quelle cose che ci avvicinano al mondo e ci allontanano da Dio. Voglio continuare a leggere il quarto volume delle testimonianze, pagina 641. Le nostre parole, le nostre azioni e il nostro vestiario sono dei predicatori quotidiani viventi che raccolgono per Cristo oppure disperdono. Ciò che la parola di Dio ci dice qui è che il modo nel quale viviamo predica per Cristo oppure contro Cristo. Come stanno predicando le tue azioni oggi? Le tue parole? Sei una persona paziente? Sei una persona che dimostra una tenera cura per gli altri nelle tue azioni? Sei paziente con i tuoi figli e col tuo coniuge? Sei stato in grado di trattare gli altri come tu vuoi essere trattato? C'è un solo modo, solo attraverso la grazia di Gesù. Guardando al Calvario, confidando in Lui, confidando che Lui ti perdona quando sbagli e comprendendo questo amore tu ottieni la pace che ti rende in grado di essere paziente e amorevole. E riguardo le tue azioni? Sei stato implicato nella politica in questo mondo? Hai difeso i tuoi candidati nel paese ovunque ti trovi? La parola di Dio ci dice di non essere implicati nella politica. I morti seppelliscano i loro morti. Questo dice la parola di Dio. Coloro che sono morti nei peccati e nelle offese devono aver cura in questo mondo di alcune cose che non sono il nostro compito. Perciò non impilchiamoci nella politica. Sei stato implicato, troppo implicato nei giochi, calcio, football? Queste cose vi prendono troppo del vostro tempo e vi conducono verso questo mondo e lontani da Dio. Hai trascorso troppo tempo giocando sul computer o sul cellulare? Queste cose ci portano vicino al mondo e ci allontanano da Dio. Le nostre parole, le nostre azioni, il nostro vestiario sono predicatori quotidiani che raccolgono per Cristo o dispertono. Quali sono le difficoltà che hai nella tua vita per vivere la parola e avvicinarti a Gesù? Un giorno il Signore ci ha chiamati dal mondo e ci ha dato il privilegio di venire nella Chiesa. Oggi Gli è preoccupato perché ci siamo allontanati da Lui, ci siamo avvicinati al mondo. C'è qualcosa nella tua vita che ti trattiene dall'avere una migliore comunione con Gesù Cristo per sentire di più la Sua presenza nella tua vita? Io non so quali lotte stai affrontando. Io non so quali sono le difficoltà che hai nella tua vita, ma Gesù lo sa. Quando sono venuto la prima volta nella Chiesa c'erano alcune cose nella mia vita che erano difficili da lasciare. Era un mangiatore di carne e questo non è facile da lasciare. Era un giocatore di calcio. Avevo giocato nella squadra della mia classe, nella squadra della scuola e avevo le mie ambizioni come calciatore. È stato difficile per me smettere di giocare a calcio ed essere implicato nel calcio. Calcio per me era un'idolatria, prendeva troppo del mio tempo. Quando mi resi conto che questo mi separava da Dio, che era qualcosa che ostacolava una mia comunione più stretta con Dio, capì che dovevo abbandonare il calcio. Ma non fu facile. Qual è la cosa che prende più del tuo tempo di quanto dovrebbe? Come sono state le tue azioni? Stai predicando Gesù con le tue azioni, con i tuoi affari? Nel modo col quale stai con le persone? Com'è il tuo vestiario? C'è qualcosa che nel tuo vestiario che può essere in questo momento lo Spirito Santo toccando il tuo cuore ti fa dire ho sbagliato in questo particolare? La tua dieta? C'è qualcosa che anche qui questa volta lo Spirito ti fa dire? Può essere che anche qui devo migliorare? Lo Spirito Santo sta portando al tuo cuore, lo sta rendendo una grande fiamma. Lo Spirito Santo rimuova dalla tua vita quelle cose che ti avvicinano al mondo e ti faccia avvicinare a Gesù Cristo. Come dovrebbero predicare Gesù le nostre parole, le nostre azioni, il nostro vestiario? È possibile quando camminiamo con Gesù, quando Lui è una realtà nella nostra vita. Quarto volume delle testimonianze, pagina 633. Le parole, il vestiario, le azioni dovrebbero parlare di Dio. Allora una santa influenza sarà versata su tutti quelli che stanno intorno e persino gli increduli sapranno che essi sono stati con Gesù. Sì, cari fratelli, come vi ho detto, tutte queste cose sono importanti. Il modo nel quale osserviamo il sabato, il modo nel quale diamo le decime e le offerte, il modo nel quale ci vestiamo, il modo nel quale mangiamo, tutte queste cose sono molto importanti nel nostro viaggio con Gesù Cristo. Perché sono importanti? Possiamo noi adempere queste richieste nella parola di Dio? Il segreto sta nell'ultima parte di questo versetto che abbiamo letto. La parola di Dio dice, il mondo saprà che essi sono stati con Gesù. Perché l'isperazione dice questo? Quando osserviamo il sabato, quando ci vestiamo in modo adatto, quando le nostre azioni, parole, obiettivi testimoniano di Gesù, perché il mondo riconoscerà che noi abbiamo camminato con Gesù, quando vedranno queste cose nella tua vita? Sai perché? Perché solo chi cammina con Gesù, solo coloro che comprendono l'amore di Dio e camminano con Lui, sono in grado di avere le parole, il bestiario e le azioni che sono predicatori viventi e che parlano di Dio ovunque vanno. Il segreto, pertanto, è camminare con Gesù, contemplare il calvario, vedere Gesù, questo fratello di amore che abbiamo, vedere il Padre, fare tutto quello che può per salvare te e me, quando capiamo e vediamo questo amore. Allora possiamo osservare i Suoi comandamenti e separarci dal mondo. Quinto volume delle testimonianze, pagina 78. La nostra unica speranza è di stare come un popolo peculiare di Dio. Non dobbiamo cedere neanche un centimetro alle usanze e mode di questa epoca degenerata, ma restare nella dipendenza morale, non facendo alcun compromesso con le sue pratiche corrotte e idolatriche. La parola di Dio dice che la nostra unica sicurezza è per noi mantenere questa comunione con Gesù. Questo ci rende un popolo peculiare, presentarsi come un popolo di Dio peculiare, essere amici di Dio e non amici del mondo. Dio ha una chiesa peculiare, Dio fa figli peculiari, Dio ha un popolo peculiare. È un privilegio per noi conoscere la verità come noi la conosciamo oggi, essere il popolo di Dio peculiare. Se siamo noi il popolo di Dio peculiare, significa che abbiamo comunione con Gesù, altrimenti non siamo in grado di essere peculiari. Se abbiamo questa comunione siamo al sicuro nelle braccia del nostro Padre. Noi viviamo in un mondo pericoloso, un mondo pieno di problemi, ma con Gesù, con la comunione che Egli ci offre per mantenerci vicini a Lui, attraverso il regno della Sua parola, attraverso lo studio della Bibbia, attraverso la preghiera. Noi siamo in comunione con Cristo e siamo peculiari, differenti da questo mondo e separati da questo mondo. Cari fratelli, tutto questo è impossibile fare, vestirsi in modo diverso, osservare un giorno differente, mangiare un cibo diverso, dare decime offerte, servire il Signore con tutto il cuore. È impossibile senza Gesù Cristo. C'è un testo dell'ispirazione che amo e vorrei condividere con voi. Speranza dell'uomo. Pagina 439. Il peccatore pentito rivolga il suo sguardo sull'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In quella contemplazione sarà trasformato. Quando contempliamo Gesù, l'uomo che ha sperimentato dolore e sofferenza mentre opera per la salvezza dei perduti, disprezzato, schernito, deriso, pronto ad andare da una città all'altra, fino al compimento della Sua missione. Quando noi lo contempliamo nel Getsemane, mentre su da gocce di sangue, sulla croce, nell'agonia della morte, quando lo contempliamo così, allora il nostro io non cerca più la propria esaltazione. Guardando Gesù ci vergogniamo della nostra freddezza, del nostro torpore, del nostro egoismo. Siamo lieti di essere qualsiasi cosa o anche niente per adempiere con tutto il cuore e il servizio del Maestro. Ci reallegriamo di portare la croce dietro a Gesù e sopportare prove, offese e persecuzioni per il suo amore. Pertanto, cari amici, cari fratelli, care sorelle, cosa c'è che vi separa ancora da Dio, che vi ostacola ad essere più vicini a Lui? Vale veramente la pena che il mondo ci separi da Dio? Noi tutti sappiamo che non vale la pena. Noi lo sappiamo. Noi vogliamo essere liberi dal mondo, vogliamo essere separati dal mondo, e la soluzione sta qua. Fissate i vostri occhi su Gesù. Guardate a Colui che porta la croce sul Calvario. Contemplatelo nel Gezzemane sudando sangue quando portavi i tuoi peccati, i miei peccati. Accompagnalo con quella pesante croce sulle sue spalle che portava sul Calvario, con quella corona di spine posta sul suo capo, sanguinando sulla testa. Contemplalo inchiodato sulla croce. Contemplalo appeso sulla croce morire per te e per me. La parola di Dio dice allora qui, ci vergogneremo di noi stessi, della nostra freddezza, del nostro torpore, del nostro egoismo. Ti vergogni che ci sono molte cose nella tua vita che il Signore dice a te e a me di abbandonare? Quel cibo che danneggia la tua salute, quei vestiti che non glorificano il mio nome? Osserva il sabato, è una benedizione per te, e alle volte noi vediamo che tutte queste cose sono così difficili. Ma quando contempliamo Gesù Cristo morire per noi sul Calvario, tutte queste cose spariscono. Ci vergogniamo di noi stessi, vogliamo veramente essere qualsiasi cosa o anche niente per la gloria di Dio, affinché possiamo servirlo con tutto il nostro cuore. Ci rallegriamo di portare la croce seguendo Cristo, sopportando le prove, la vergogna, le persecuzioni per amore di Lui. Noi vogliamo comprendere che è meglio essere prigionieri con Gesù che essere principi senza Gesù Cristo. Vorrei concludere questo sermone oggi con questo messaggio oggi con un testo di Christ Triumphant, pagina 22. Tutti coloro che sono uniti con Cristo usciranno dal mondo e saranno separati. Ecco il segreto per separarsi dal mondo, essere uniti con Gesù Cristo. Essi non entreranno nel mondo tramite nessuna loro scelta. Egli invita ogni anima, venite a me voi tutti che siete stanchi e aggravati e io vi darò riposo. Vuoi essere unito con Gesù Cristo? Vuoi camminare con Gesù? Sei stanco di questo mondo? Sei già sufficientemente deluso di questo mondo? Se sei stanco di questo mondo, Cristo invita a te e me. Vieni a me. Tu che sei stanco e aggravato, io ti darò riposo. Gesù ti offre oggi, in questo momento, il riposo che il mondo non ti può dare. Egli ti offre la felicità che il mondo non ti può dare. Egli ti offre una vita che il mondo non ti può dare. Egli ti offre vita in abbondanza. Egli ti offre la vita eterna e la felicità senza fine. Solo accetta il suo invito. Lascia il mondo, separati dal mondo. Permetti che lui ti dia la grazia e la potenza per vincere quelle piccole cose che ancora ti separano da lui, che ti ostacolano ad avere una comunione più stretta con lui. Possa la grazia di Gesù essere sufficiente per me e per te. Possa egli darci la sua potenza per separarci dal mondo, per essere vincitori in lui. Possa Gesù essere una realtà nella tua vita e nella mia vita. E possiamo noi presto credere in lui, in un mondo molto migliore di questo. Amen. Grazie a tutti.